E tu cos'hai da fissare? Ma perché non la lasci in pace con la donna? Tutti sanno quello che fai. Perché non ti impici degli affari tuoi e continui a spazzare? Quindi ci divertiamo a fare il giro del palazzo, a raccontare i fatti nostri, buttando fango su di me. Ti piace fare la vita? Io non ho parlato con nessuno. Magari sentono le tue urla. La gente sa. La gente sa? Cosa? Stop! Fra, sono sette volte che facciamo questa scena. Non ce la faccio più. Fra, giriamo questa benedetta scena e ce ne andiamo tutti a casa poi, eh? Devi dare solo uno schiaffo. Per finta. Non ce riesco. Neanche per finta. Grazie per la visione.